Sono morto o sono vivo? Serve uno psicologo? Ti senti osservato? Allora non sei pazzo! Anche per me è così. Esisto e non esisto. Questo è quello che può accadere a noi particelle quantistiche. Vieni! Ti mostrerò il mondo dei quanti! Ma siamo prigionieri! Essere un esperimento mentale ha i suoi vantaggi. Seguimi! Prendiamo tutte le strade insieme e molto probabilmente arriveremo. A dopo e assolutamente non guardare da quale strada passo. Se no, non so dove vado. A dopo. Speriamo. Hai visto? Sei arrivato. Sì, ma non chiedermi come. Entriamo. Lo capirai lì. La dobbiamo riempire noi. Pensando gli esperimenti. Ecco un esperimento con onde d'acqua. L'onda che passa dal foro 1 interferisce con l'onda che passa dal foro 2. L'intensità delle due onde che si sovrappongono non è uguale alla somma delle intensità delle due onde prese singolarmente. Come vedi, il principio di indeterminazione non è un limite. Anzi, ci permette certe libertà. Cominci a capire come funzionano le cose qua? Allora, ci sono particelle che sono anche onde e che passano contemporaneamente per due fori. Noi diciamo che sono in una sovrapposizione di stati. Mi stai insegnando un sacco di cose. Grazie. Ma non so ancora come ti chiami. Io sono Felix. Mi dispiace, ma io sono semplicemente un fotone e non ho nome. Insomma, se vi scambiate di posto, io non me ne accorgo. E vale per tutte le praticelle di uno stesso tipo. Anche per gli elettroni. Anzi, ti consiglio di andare con loro. Per te sarà molto interessante. Noi ci incontreremo ogni volta che ti imbatterai in un fotone. Ciao. A presto. Non si tratta di razzismo, ma di Stato. Vuoi dire la classe sociale? Voglio dire che a noi elettroni è vietato occupare lo stesso Stato. Per il principio di esclusione di Pauli. E la legge. Ma voi due state occupando lo stesso Stato. Csshh, sei impazzito. Non lo dire neanche per scherzo. Non vedi? Io sono Up. E lui è Down. Siamo molto diversi. E quindi non siamo nello stesso Stato. Ma il fotone mi ha detto che siete tutti uguali. Un fotone? Ma per un fotone è diverso. Che ne sanno? Sono bosoni. Non sono soggetti all'esclusione. Voi non siete bosoni. Noi siamo fermioni. Un effetto del principio di esclusione è la varietà del sistema periodico degli elementi. Infatti negli atomi gli elettroni devono distribuirsi su livelli diversi, dando origine ai diversi elementi. Inoltre, dal principio di esclusione, dipende la stabilità della materia. Ad esempio due atomi di idrogeno stanno distanti gli uni dagli altri, per evitare che i loro elettroni esterni si trovino esattamente nello stesso Stato. I bosoni hanno una probabilità molto più alta di trovarsi nello stesso Stato, piuttosto che in stati diversi. Fermioni e bosoni si comportano in modo molto diverso, perché hanno valore di spin diverso. C'è una connessione spin statistica. In un sistema di bosoni nello Stato di Energia Minima, ogni particella è nel suo Stato di Energia Minima. In un sistema di fermioni nello Stato di Energia Minima, le singole particelle non sono nel loro Stato di Energia Minima. L'energia minima di un sistema di fermioni è enormemente maggiore dell'energia minima di un sistema di bosoni. Nei superconduttori, gli elettroni accoppiati hanno spin intero, e si comportano come bosoni. Sai, dipende da noi fermioni se esiste una struttura nella materia. Ma dove stiamo andando? In tribunale c'è un processo importante sul mistero dell'entanglement. Pare che sia stata violata la legge di località. Dimostrerò alla giuria che questa teoria è incompleta. Dove è il suo compare? Non ho idea, ma molto lontano in questo momento. Avvocato, ci faccia capire dove vuole arrivare. Se il test dice la verità, e l'elettrone non possedeva prima della misura, nessuna proprietà oggettiva. Devo concludere allora, che è stata la misura compiuta qui, che ha provocato l'emergere di questa proprietà, su un elettrone è lontanissimo. Quindi, sarebbe violata la legge di località. Devo riflettere. La corte si ritira per deliberare. Abbiamo vinto la causa. Vorrei chiamare a testimoniare il gatto Felix sul processo di misura. Obiezione. Effettivamente, siamo in Tangled. Ci troviamo in uno stato che è la sovrapposizione di due stati. Uno in cui sono emesso, e il gatto è morto. Uno in cui non sono stato emesso, e il gatto è vivo. Il fotone è in uno stato sovrapposto e emesso o non emesso. Se il fotone non è emesso, il gatto è vivo. Se è emesso, il gatto è morto. Non vedo dove sia il problema, dato che non lo vedremo mai. Niente. Sembra vietare che anche il gatto si trovi in una sovrapposizione di stati. Tuttavia, non è decente che il gatto vada in giro in un simile stato sovrapposto. Condanniamo pertanto il gatto Felix ad essere o vivo o morto.